La sfida più attesa, una sfida diventata ormai una classica della palla a volo mondiale, Italia-Brasile. Dopo il doppio confronto con l'Australia, la nazionale di Mauro Berruto è pronta ad affrontare i vice campioni mondiali ed olimpici nelle ultime due tappe italiane della World League 2015. Venerdì 19 giugno, Centrale Foro Italico di Roma. Domenica 21 giugno, Nelson Mandela Forum di Firenze. Italia-Brasile, una doppia sfida mondiale.